È andato bene, noi siamo un'azienda piemontese che partecipa al Vinitali da 47 edizioni, quindi abbiamo una lunga storia in Verona e al Vinitali e dove se l'inizio del Vinitali è stato per prevalentemente operatori italiani, dal 1980 si è sviluppato sempre più il mercato estero e oggi, devo dire che è l'ultimo giorno del Vinitali, tirando un po' le somme abbiamo visto più americani, molti più asiatici, quindi cinesi, giapponesi, ma la vecchia Europa anche ben rappresentata. Con un mio orgoglio patriotico dico anche tanti italiani, soprattutto gestori di ristoranti e di enoteche che con l'occasione hanno portato i loro dipendenti per far assaggiare le nuove annate, i nuovi vini e rendeli più consapevoli dell'annate che si stanno presentando e delle varietà autoctone che sempre più si stanno riscoprendo regione per regione nella nostra bellissima Italia. Grazie